Novità nell'assistenza ai malati psichiatrici. Al fianco degli operatori del Dipartimento di Salute Mentale arriva la rete di emergenza del 118, una sorta di integrazione, di sinergia per offrire al paziente una migliore qualità di cura. Mentre in un tempo si recava a domicilio del paziente solamente il medico psichiatra e gli infermieri, adesso in prima battuta deve andare il 118, mi sembra esattamente una cosa molto interessante anche sul piano culturale. Gli ammalati psichiatrici hanno gli stessi diritti di tutti gli altri ammalati. Quindi i tempi lunghi di un tempo non sono più spiegabili, mentre oggi il 118 si porta con immediatezza a casa dell'ammalato. La prima cosa che fa è legge il bisogno, decodifica il bisogno e realizza la condizione di affermare un'assistenza adeguata al bisogno espresso. Se dovesse essere di tipo psichiatrico, in aggiunta chiama l'unità operativa di riferimento e arriveranno al domicilio infermieri e medico psichiatra che collaborerà con il 118 per stabilizzare il paziente. Quindi potenziamento e aggiunto ovviamente di assistenza e di qualità di intervento. La seconda cosa interessante è, oltre alla tempistica, quindi velocemente il 118 è a casa del paziente, che può avere problemi diversi da quelli psichiatrici e che solo lui è in grado di leggere. La seconda cosa importante è che dopo la stabilizzazione viene trasferito in ambulanza con personale qualificato ed attrezzato per intervenire su eventuali complicanze. La terza cosa interessante è che il paziente giunge all'Umberto I dove pur riceverà tutta l'assistenza qualificata. Dopo aver fatto un percorso diagnostico di tipo clinico, quindi per esclusione afferma una condizione psichiatrica, viene affidato all'equipe psichiatrica e enfermeristica che ha addirittura una stanza a disposizione, che è una sorta di succursale del pronto soccorso, dove farà tutto ciò che dovrà essere fatto per stabilizzare e decidere il paziente dove andare. Ho ricoverato al piano di sopra dove c'è il nostro reparto, ho trasferito con ambulanza medicalizzata e infermieri altrove. Quindi miglioramento, qualità, assistenza e soprattutto, come devo dire, dignità e rispetto per l'esigenza di salute del paziente psichiatrico che noi mettiamo al centro di questa riorganizzazione. Riorganizzazione